il più grande crimine contro l'umanità successivo alla seconda guerra mondiale può essere considerata anche se non lo si dice mai abbastanza la pazza distruzione della natura della storia dell'umanità italiane l'italia il paese più ricco al mondo per il mix di natura storia umanità è divenuto il più povero nel senso che avendo di più è stato quello che ha perso di più se le potenzialità italiane erano le massime queste sono state pressoché azzerate l'olocausto il bruciare tutto consiste in questo nel negare il futuro a chi per il suo passato le sue condizioni di partenza aveva il diritto e il dovere del più lungo e proficuo futuro come una donna bella e intelligente ridotta per sempre ad uno straccio a causa di droga e prostituzione questa è l'italia non il bel paese ma il paese che non è riuscito a realizzare se stesso deludendo l'umanità tutta mancando la più alta opportunità che l'umanità degli ultimi secoli abbia avuta in Italia l'ingiustizia sociale o politico economica è causa ed effetto di quella culturale culturale ecologica politica economia cultura hanno tradito tradendo se stesse auto distruggendosi senza accorgersene la terra la storia il potenziale dell'Italia perché in Italia più che in ogni altro luogo politica economia cultura dovevano avere a che fare con storia bellezza paesaggio agricoltura artigianato armonia invece in Italia c'è tutto da troppo tempo in maniera oramai purtroppo irreversibile che armonia è a tutti i livelli uno stupro a cielo aperto la natura è scomparsa anche come ricordo scriveva nel 1933 Corrado Alvaro a proposito di Roma mafia malavita corruzione vengono aditati come principali problemi e tumori dell'Italia ma seppure lo sono problema e tumore non sono il principale essendo l'effetto e non la causa di una cultura dell'olocausto o distruzione del futuro come cartagine l'Italia su cui i romani gettarono dopo aver distrutta il sale per impedirne ogni rinascita cultura dell'olocausto che è quella che ha compromesso per sempre e continua paesaggio ambiente bellezza intelligenza risorse materiali e intellettuali con Leonardo se n'è andato dall'Italia anche il paesaggio leonardesco e da Leonardo in poi che pure non è stato propriamente perseguitato anche se si può considerare il primo cervello in fuga abbiamo avuto tutto un perseguitare o misconoscere o impedire i propri grandi Tasso, Campanella, Bruno, Galilei fino agli assassini di Gentile e Pasolini non si tratta di redigere l'ennesimo cahier de doleance ma di renderci adeguatamente conto la distruzione dell'Italia e degli italiani il male ad essa collegato consiste anzitutto come avviene per il deficit ecologico in generale nel non accorgercene ed allora per accorgercene o contribuire in minima parte a ciò prendiamo il caso riportato nell'incipit di un romanzo lo pubblicò Sorelle Materassi Aldo Palazzeschi a Firenze nel 1934 aveva 49 anni questa era Firenze all'epoca l'ultima epoca che vide Firenze in questo modo corrono fra la città e le sue colline zone di pianura più o meno vaste che possono separarla da essa per due o tre chilometri talvolta meno talvolta oltre questo confine ho detto armoniosissime già che la cosa che salta agli occhi dello spettatore anche distratto mediocre o indifferente è la linea di essa che veduta una volta non sarà facile cancellare dal ricordo producendosi tale armonia dalle irregolarità più impreviste come soltanto il caso può architettare intendendo accreditare quel significato alto un profumo quasi direi di miracolo e di mistero con cui viene pronunciata da noi questa parola e volendo esprimere per maggiore chiarezza che quando è precisamente il caso che fa l'architetto tutti gli architetti della terra rimangono a guardare irregolarità impreviste alle quali nessuno saprebbe suggerire una correzione aggiungere qualcosa o levare che non cade mai nel fosco nell'orrido nel romantico sensuale o nostalgico mantenendo un'intonazione luminosa e chiara di signorilità e di eleganza di civile bellezza qui via ecologia in senso proprio così come noi non possiamo alterare impunemente alcunché di naturale perché il naturale è così complesso che ogni sua alterazione rende imprevedibili gli effetti allo stesso modo non ci può essere nessun architetto che in un'unica opera in una singolarità possa sostituirsi o anche solo mettersi alla pari con il caso vale a dire con con l'armonia come effetto di millenni di processi inconsci così come potremmo dire il nostro cervello si è evoluto in milioni di anni di mancanza di cervello senza cervelli e noi con esso non riusciamo a produrre nulla di paragonabile allo stesso modo il paesaggio naturale o anche con l'intervento umano ma un intervento non invasivo non distruttivo non pesante bensì lento limitato omeopatico non possiamo competere con nessuna architettura nemmeno del più grande architetto bisognerebbe che questo architetto fosse Dio Deus Sive Natura però e l'uomo che non è stato a scempi ma l'uomo che è entrato in punta di piedi con questo paesaggio fiorentino che oggi non esiste più e che non esisterà mai più essendo definibile Firenze attualmente un vero e proprio Auschwitz della bellezza e della storia per dire una distruzione totale e irreparabile di ciò che aveva il massimo valore ha raddoppiato con la sua opera storica millenaria e diciamo anti architettonica nel senso di una costruzione definita e di impatto immediato la bellezza già che è pregio inestimabile di queste colline l'essere disseminate di ville di castelli costruiti nei punti più suggestivi volti in tutti i sensi di tutte le epoche ed ogni stile e che mai ne turbano l'armonia circondati da parchi e giardini che invece di produrre un'atmosfera di realtà da sogno fiaba per virtù di certa severità e raffinatezza riescono a darci l'illusione della realtà più semplice di intimità domestica di nobiltà sicura di sobrietà e saggezza di modestia anche quando le proporzioni rendono difficile il compito di nascondere la potenza alle ville dai castelli si aggiungono le ville più piccole le villette le case i casolari i paesi e le borgate che la varietà del suolo lascia apparire in un complesso che rende insaziabile l'occhio dell'osservatore per il numero inesauribile delle scoperte portandolo naturalmente alla conclusione che il secondo artefice per avere tanto amato e compreso il primo si sia impossessato del suo segreto al punto che ora tutto sembra fatto da lui dall'uomo così che sempre in ogni dove ci appare volgendo intorno lo sguardo l'uomo nella sua espressione più alta e più degna è questa la definizione di paesaggio che va data che cos'è il paesaggio? il paesaggio è l'uomo nella sua espressione più alta e più degna oggi non avendo questo tipo di espressione non abbiamo paesaggio da nessuna parte ma abbiamo ogni dove la distruzione sistematica del paesaggio causa ed effetto di quella dell'uomo questo avviene anche tramite il fatto che l'uomo non volge più lo sguardo l'uomo è distratto mediocre indifferente spettatore e per questo ha bisogno di spettacoli per questo ha bisogno di un supplemento di immagine quello artificiale perché non è più capace di vedere non è più capace di guardare non è più capace di vedere non è più capace di guardare perché non è più capace di esprimere diversità la biodiversità queste sono le nostre città industriali queste sono i non luoghi questo è il processo di astrazione della materia coincidente con la sua distruzione e questa è anche la ragione della nostra infelicità nello stare al mondo perché non abbiamo più armonia tra il nostro essere e quello del mondo non abbiamo più essere noi perché non siamo più in grado di dare un essere al mondo non siamo più in grado di riconoscere o di sentire un paesaggio non siamo più in grado di scoprire o di non turbare di non essere dannosi per tornare alla metafora del cervello che poi non è nemmeno una metafora di cui facevo prima della sua evoluzione potremmo dire potremmo dire che non solo con il nostro cervello non siamo in grado di fare quello che senza cervello ha fatto la natura vale a dire un cervello di paragonabile complessità ma nemmeno lo sfruttiamo in tutte le sue potenzialità non essendo in grado e dimostrandolo giorno per giorno di sviluppare una intelligenza ecologica ecologica